Nega di essere un trafficante di esseri umani e nega anche di essere la persona che gli investigatori italiani cercavano da tempo. Del sospetto si sa con certezza che Eritreo è stato arrestato in Sudan e poi è stradato nella notte tra martedì e mercoledì scorso in Italia. Si sa anche dopo l'interrogatorio di garanzia odierna che è stato intercettato, che ha confermato che il telefono era il suo e la voce è sua, ma dice che erano telefonate le famiglie e non da altri trafficanti. Lui dice di chiamarsi Medanites Marfarian Berhe, di avere 28 anni, mentre il ricercato si chiama Medan Yebdego Mered e ha 35 anni. È un altro uomo, è stato arrestato dalla polizia sudanese ed è qui ma non capisce le ragioni del suo arresto e si trova in carcere senza alcuna colpa, ha detto il suo avvocato ai giornalisti e corrispondenti in attesa davanti al carcere romano di Re Bibbia. La sorella ha portato con sé foto e documenti per dimostrare lo scambio di identità. Per verificare tutto gli inquirenti si avvalgono anche di una perizia fonica con la comparazione della voce del super ricercato e quella dell'arrestato registrata in intercettazioni telefoniche. Nelle prossime ore si procederà anche alla comparazione con la voce registrata durante l'interrogatorio per escludere anche la possibilità che lo scambio abbia potuto avvenire in cella in Sudan.